L'avvocato Anna Berghella, presidente di Fabrica Cultura, incoraggia i cittadini di Sulmona a non abbandonare la lotta in difesa del Tribunale e a votare in massa sì al referendum abrogativo della legge dagli apiccoli tribunali, se si riuscisse ad ottenerne l'indizione. La soppressione del Tribunale di Sulmona, si legge nella lettera aperta della Berghella, rappresenta l'ennesimo schiaffo inflitto dallo Stato ad un territorio difficile come il nostro. Si subisce questo evento come una ineluttabile decisione dello Stato centrale, a cui occorre solo adeguarsi. A peggiorare le cose, c'è da un lato l'assoluta consapevolezza del problema avvertito dalla classe forense, che esponendosi personalmente ha portato avanti lo sciopero della fame e un presidio permanente davanti a Palazzo di Giustizia, nonché del comitato costituitosi ultimamente con l'appoggio del Comune di Sulmona, ma dall'altro il tiepido supporto di altre categorie della circoscrizione e della popolazione della Valle Peligna e dell'Alto Sangro. Se riusciremo ad avere un referendum abrogativo di questa legge, sottolinea l'avvocato, forse unica speranza che abbiamo, ce la sentiamo di andare a votare in massa il nostro sì? È questo l'interrogativo posto dalla Berghella alla popolazione. Ciò che maggiormente spaventa della chiusura del Tribunale di Sulmona è la vastità di comuni che serve, molti dei quali situati in montagna, con una viabilità inadeguata e, in inverno, tempi di percorrenza ottocenteschi. I colpi di accetta voluti dal ministro Severino prima e cancellieri poi, con accorpamenti effettuati con criteri generali e senza alcuna eccezione in calza alla Berghella, si basa sulla divisione territoriale per provincia. Le quali non solo sappiamo essere in via di soppressione, ma mal distribuite, in particolare nella nostra regione, non rappresentanti un criterio omogeneo, ma che in realtà ricalcano un criterio ottocentesco. Basti pensare a Pescara e Chieti. Si aggiunga, a dimostrazione del modo insulso in cui è stata recepita la legge delega del Governo, che il nostro Tribunale andrebbe accorpato a quello dell'Aquila, in cui, come è noto a tutti, non ci sono aule sufficienti e si giudica ancora nei container prefabbricati. La cartina che vi stiamo mostrando dimostra come la soppressione dei Tribunali abruzzesi delinea un'immaginaria linea che dividerebbe l'Abruzzo settentrionale con quattro tribunali, dal più esteso Mezzogiorno d'Abruzzo, senza alcun presidio giudiziario, lasciando scoperte queste aree anche di procure della Repubblica e di commissariati, che automaticamente seguono la soppressione del Tribunale. Avremo così cittadini di serie A, che godono di ottime infrastrutture, collegamenti stradali, tribunali e uffici pubblici a portata di mano, e cittadini di serie B, delle zone interne con collegamenti stradali e ferroviari da 1800 e uffici a 150 km di distanza, con le accentuate difficoltà dovute alle nevicate invernali. Fabbrica Cultura, conclude la nota, auspica che il risveglio del territorio e delle coscienze avvenga al più presto e che non rimaniamo supinamente alla finestra a guardare la nostra terra tramutarsi in un deserto. È il momento di dire basta. La spogliazione iniziata qualche anno fa dei presidi esistenti sul nostro territorio deve avere un brusco e deciso arresto, ritornando ad avere orgoglio di abitare in zone interne e avere il coraggio di pretendere il rispetto per le difficoltà legate all'orografia e al clima. Grazie a tutti.